Nell'emergenza di cosa ho bisogno? Senta, avrete domani, una pizza? Non ho capito di cosa ho bisogno, signora? Una pizza, per favore. Una pizza? Subito, ho bisogno di voi, mi puoi aiutare? Non posso parlare adesso. Una pizza? No, no, mi dica dove. Mi vado. Ok. Sì, operatore 3. Sto inviando una scheda, la signora era... Non poteva parlare e ha cercato di ordinare una pizza. Ciao, Romana. Continuo, ascolto. Mediello, te... Ci debba essere lì una donna con la scusa di ordinare una pizza. Ha chiamato in lui, però ha fatto intendere che aveva bisogno, come se non c'è detto qualcosa, però non poteva parlare. Poco fa ci abbiamo parlato, sempre con la scusa della pizza, negando che fosse la polizia al telefono. Probabilmente c'è qualcuno davanti che non vuole, che senta, che stiamo arrivando. Ricevuto, stiamo andando.